Buonasera, diamo il benvenuto questa sera a Matteo Fochessati. Matteo Fochessati è curatore della Wolfsoniana di Genova e oltre ad essere appunto, avere questo incarico molto importante e significativo per gli argomenti di cui andiamo a parlare, è un collega amico, diciamo membro di quella famiglia in senso figurato che ha un po' sotteso il lavoro che c'è dietro questa mostra, un po' quel gruppo di persone che operano questi medesimi temi in Italia e dunque particolarmente interno e organico a questo gruppo di lavoro che in questi decenni ha cercato di mandare avanti in Italia lo studio e la tutela, la protezione, e la promozione del sistema delle arti decorative. Per presentarlo e per presentare l'istituzione dove lui lavora, che anche questa è molto importante da questo punto di vista, chiedo a Maria Paola Maino, che come sapete ormai benissimo, una delle curatrici della mostra Dolce Vita, di spendere due parole più precise di quelle che potrei spendere io in caratteri di presentazione e noi ci rivediamo invece alla fine della conferenza. Grazie e buon ascolto a tutti. Sarà aperto? Sì, allora, noi ci lamentiamo sempre questo gruppo del quale parlava Matteo, questo gruppo d'assalto museo delle arti decorative che noi in Italia non abbiamo un museo delle arti decorative come quello che c'è a Parigi, a Londra, nelle grandi capitali europee. In realtà noi abbiamo un museo delle arti decorative in Italia che è stato fondato da un signore americano, che è un po' una contraddizione nei termini, perché l'avremmo dovuto fare noi dal 1902, quando è stata fatta la prima mossa delle arti decorative italiane a Torino, che si parlava di fondare un museo delle arti decorative poi a Monza di nuovo si parlava, insomma, non si è mai fatto. E la triennale, per esempio, avrebbe potuto avere un grande museo. Ma la contraddizione è che in Italia viene un giovane, adesso non è più giovane perché oramai anche lui ha più di 70 anni, americano, molto innamorato dell'Italia, si stabilisce a Genova e comincia negli anni 60 a collezionare le cose che in quegli anni nessuno voleva. Soprattutto lui aveva un occhio per la propaganda in senso lato, sia nel senso storico, politico e poi anche fascista. Quindi lui era interessato a tutti quegli oggetti che raccontavano una storia o un'ideologia o volevano insegnare qualcosa. Quindi lui ha cominciato molto presto a raccogliere tutte queste cose, fino a che passano gli anni, passano i decenni, lui fonda due musei in momenti diversi. Uno a Miami, dove mette tutta la sua collezione. Lui, oltre a essere un grande collezionista, è un grande viaggiatore, quindi conosce tutti i paesi del mondo e dove è andato ha comprato. Quindi tutta la collezione internazionale va a finire nella sua città natale, che è Miami, dove fa un museo. Questo museo poi è stato donato da lui stesso all'Università di Miami e poi fonda un altro museo con la sua collezione prevalentemente italiana a Genova, che era il posto dove lui si era insediato da giovane. E questa istituzione ha già quanti anni, Matteo? Dall'87. Dall'87 lui ha creato questa istituzione che prima aveva una sede, poi è stata cambiata, poi avrebbe dovuto avere un'altra sede, poi adesso, siccome questa istituzione ha avuto varie vicende burocratiche che non vi sto a raccontare, finalmente è finita come di proprietà della regione, del comune, no? È stata, sempre da questo stesso signor Wilson, donata, no? Donata alla città, in un edificio che era una vecchia scuola. Nell'87 lui ha dovuto creare per forza un team di curatori di questa collezione, perché la collezione era molto, molto vasta, comprendeva oltre oggetti mobili, carta, riviste, libri, biblioteche, manifesti, insomma una collezione piuttosto imponente, ha preso tre giovani curatori che erano da poco laureati e che si sono buttati a corpo morto a studiare questo materiale e si sono formati proprio nella loro attività, che poi nel caso di Matteo e nel caso dell'altro curatore di Matteo, che si chiama Gianni, che non c'è questa sera, si sono formati proprio studiando, erano ovviamente già laureati, ma si sono formati studiando la collezione, oramai appunto da trent'anni. C'era una terza curatrice che era una simpaticissima e bravissima storica dell'arte, anche lei, e lei adesso è andata alla Wolsonian di Miami. Quindi loro sono rimasti loro due. Quindi questa è la storia, insomma molto succinta, dell'unico museo che noi abbiamo di arte decorativa in Italia, fondato da un americano, Mecenate, il quale poi ha donato tutta la sua collezione. Come sapete gli americani sono della gente che restituisce parte dei loro patrimoni per la comunità, cosa che non succede in Italia, ma siccome lui è un personaggio estremamente attraente, estremamente curioso, estremamente volitivo e soprattutto molto civile, ha poi donato questi musei alle cose. e questo per introdurre il curatore della Wolsonian, Matteo Focchessati. Diamo a lui la parola. Ok, grazie Matteo e grazie Mappi per l'introduzione e insomma per aver spiegato la genesi del museo e anche per, in qualche maniera, introdurre quello che sarà il mio intervento. Perché io stasera dovrei parlarvi del razionalismo in Italia, cioè dovrei parlarvi, vi parlerò del razionalismo in Italia nelle sue diverse articolazioni funzionaliste, il problema dell'autarchia, i materiali autarchici che è proprio connaturato, diciamo, allo sviluppo del razionalismo in Italia negli anni 30 e anche quella terza via, la mediterraneità, lo spirito latino che rappresentò un'alternativa praticata da diversi designer e architetti italiani negli anni 30. Naturalmente, proprio per quanto ha detto Mappi Maino, la mia formazione è stata interna alla collezione, quindi ho assorbito fortemente quello che è lo spirito. La collezione di Walson, adesso museo walsoniana, si è sempre definita collezione di arti decorative e di propaganda e i due concetti sono quindi strettamente legati. Per questa ragione volevo iniziare, però collegandomi anche allo spirito e all'approccio critico della mostra, con una riflessione su quello che è stato alcune considerazioni sviluppate da Ghico Geval, che è il curatore della mostra, insieme a Mappi Maino, a Irene De Gurtri e a Beatrice Avanzi della mostra Dolce Vita. Ecco, Kogeval nel suo testo critico pubblicato nel catalogo affronta il tema della libertà creativa sotto le dittature e analizzando questo tema mette in evidenza quelle che sono le problematicità, anzi soprattutto quelle che sono queste due direttrici bipolari che caratterizzano le arti figurative ma anche il design e l'architettura in Italia negli anni tra le due guerre. Da un lato così il richiamo agli antichi maestri, alla classicismo, insomma il richiamo anche all'eredità romana, naturalmente come interfaccia del potere imperiale mussoliniano, dall'altro invece questa celebrazione, esaltazione del progresso, della tecnologia, della modernità, proprio della volontà di cambiare la nazione nei termini che Mussolini arrivava a definire comunque assolutamente anche nella definizione di un cambiamento dell'uomo, l'uomo nuovo mussoliniano che lui aveva plasmato come terracotta. Ecco, questo tema è assolutamente focalizzato dalla riflessione sulla modernità, sul tema della modernità di cui il razionalismo naturalmente è una delle facce, delle espressioni negli anni tra le due guerre e in particolare negli anni 30 in Italia. Una modernità che nel suo testo critico Cogevalle mette in discussione, lui a un certo punto dichiara che non ci può essere modernità senza un pensiero moderno e questo assume come una tra le principali ragioni, al di là diciamo degli palesi e marchiani, errori strategici, politici e militari di Mussolini come la ragione del collasso del regime. Vorrei partire quindi appunto da questo tema e farei una citazione, se è l'unica che faccio, che leggo, che esula dalla critica letteraria o artistica o dal contesto italiano, perché si tratta di un testo, di un romanzo recente di uno scrittore americano, David Leavitt, uno dei principali esponenti del minimalismo, il suo ultimo romanzo, I due Frankfurt, narra la storia dei profughi americani che scappano dal nazismo, scappano da Parigi e si imbarcano a Lisbona e mentre sono in attesa di questa nave che li deve trasportare in America per sfuggire dal nazismo, passano il loro tempo nei bar sbevazzando ma anche così girando per la città e facendo altre cose che qui adesso non vi racconto. Ma a un certo punto capitano di fronte a un quartiere fieristico. Portogale in quel periodo è sotto un regime dittatoriale di matrice di destra, anzi così rispecchia molto evidentemente quelli che sono i principi ideologici del regime mussoliniano. La mostra è l'esposizione del mondo portoghese, che è una mostra che viene allestita proprio per celebrare l'impronta, l'orgoglio nazionale del Portogallo. E il protagonista dice, ecco cosa succede quando il modernismo subisce il fascino del fascismo. L'avanguardia diventa il velicolo per la promozione di quegli stessi poteri che dovrebbe sovvertire. Un vernacolo modernista viene deviato allo scopo di promulgare i valori di un passato idilliaco che non è mai esistito. Una specie di nostalgia impostata politicamente. Che sia questa la definizione di fascismo? Beh, questa domanda, che è ovviamente una domanda retorica, perché è vero, il fascismo è, almeno lo è stato, nell'espressione artistiche e progettuali del fascismo italiano, un quacervo di contraddizioni, un quacervo di direttrici bipolari tra il passato e il futuro, cioè tra la contemporaneità. E questo lo possiamo vedere benissimo, prima di introdurre appunto il discorso sul razionalismo, da alcune immagini, questi sono per esempio due manifesti relativi alla trasvolata atlantica di Italo Balbo del 1933, uno di Martinati e uno di Lazzaro, scusate. In quello di Martinati vedete il volto di Mussolini, ripreso dalla statuaria classica romana, attraversato dalla sfilata, dello stormo della trasvolata atlantica di Italo Balbo. Quindi di nuovo il cortocircuito stilistico, espressivo, concettuale tra passato e futuro, tra tecnologia moderna. Nell'altro addirittura Mussolini è una sorta di Rushmore Mountain ritratto come i presidenti degli Stati Uniti e in questo ponte ideale tra l'Italia e gli Stati Uniti. Queste sono due immagini emblematiche dell'equivoco futurista, dell'adesione del futurismo al fascismo, il Mussolini come un robot che guida la nave Italia contro spezzando le catene delle sanzioni, sorvolando l'Europa, arrivando dalla lontananza delle trincee della prima guerra mondiale in cui era nato il fascismo. E poi il profilo continuo di Bertelli che è una delle invenzioni più geniali di questi anni e che però ha tutto insieme, dentro di sé, tutta una serie di componenti espressive e ideologiche molto evidenti. Queste immagini si contrappongono ad alcune altre immagini tipiche della propaganda del regime fascista che invece si richiamano a, diciamo, quell'imperialismo romano che viene assunto dal regime, soprattutto a partire dalle guerre coloniali, dal 1935, poi dalle guerre in Libia e dalla fondazione dell'impero. Un'immagine del manifesto, l'arte italiana, il manifesto di una mostra a Jeux de Pomme di Umberto Brunelleschi e rappresenta appunto di nuovo questo richiamo della statuaria classica romana che però viene contrapposta, anzi integrata, col tema iconografico del fascio pervasivo e dominante in quell'epoca. L'altra è ancora più riferita, diciamo, all'imperialismo romano e nella sua, diciamo, versione moderna, questo soldato romano che attraversa simbolicamente il Mediterraneo per andarsi in possessare della quarta sponda. Ma, vedete, la contrapposizione nasce anche proprio nei momenti più topici della propaganda fascista. Queste sono due immagini che si riferiscono. Quella in alto è il padiglione di Terrania, la mostra della rivoluzione fascista. Una mostra che viene allestita con uno stile e un approccio espressivo che si richiama al padiglione della pressa di Lisischi, a Colonia, quindi, diciamo, all'avanguardia russa, al costruttivismo rusto, con l'uso di lettering tridimensionali, fotomontaggi, installazioni. L'altra immagine, invece, si riferisce al più celebre, anche se sfortunato, film prodotto dal regime, cioè Scipione l'Africano. Qui vedete raffigurati Luigi Freddi, che era stato, diciamo, il grande creatore, il fondatore di Cinecittà, il primo presidente, diciamo, l'uomo del cinema e di quello strumento del comunicare utilizzato dal regime. A fianco di lui ci sono il regista Carmine Gallone, De Colboli, che era, diciamo, il produttore esecutivo, era stata creata una produzione a sé stante per questo film, data l'importanza propagandistica che doveva rivestire. E poi c'è anche, compare anche sullo sfondo, l'attore che, peraltro, era stato, sarà poi successivamente anche padre di Mastroianni, come rilevato da Ghico Gevalle, nel film La Dolce Vita, Annibale Ninki, non è Ave Ninki, ovviamente. Ancora un contrasto, prima di arrivare a parlare direttamente di razionalismo, tra due padiglioni che vengono realizzati dall'Italia proprio per propagandare la propria immagine all'estero. L'immagine di sinistra si riferisce all'esposizione di Chicago del 1933, un'esposizione che si intitola Century of Progress, è un'esposizione che guarda al futuro e l'Italia in quel momento è assolutamente allineata con questo spirito, non solo perché la trasvolata atlantica arrivata nel 1933 a Chicago, e poi trionfalmente anche a New York. E nell'allestimento di Alberto Libera, Mario De Renzi, troviamo il padiglione Italia formato simbolicamente da due architetture che integrano tra di sé l'architettura navale e l'architettura aerea. L'architettura navale perché siamo nel 1933 e l'Italia ha vinto anche il nastro azzurro con il Rex. Quindi è proprio un momento di grande trionfo da parte del regime, diciamo l'apice della popolarità non solo interna ma anche a livello internazionale. Pochi anni dopo, siamo nel 1933, esposizione di New York, siamo chiaramente molto più vicini, scusate, io guardo la mia destra, questa per intenderci, l'esposizione di New York di Busiri Vici e il padiglione e il tema, diciamo, espressivo è completamente trasformato, il richiamo è alla, diciamo, architettura romana, anche nelle decorazioni, la statua al vertice dell'architettura è una coppia ingrandita della statua della fontana del Campidoglio e però anche qui c'è sempre, diciamo, questa problematicità, questa contraddizione, queste due direttrici opposte, perché la statua, non so se riuscite a vederla, la grande statua sul frontone, è una statua di Romano Dazzi, di Arturo Dazzi, rappresenta la radio, è un'immagine allegorica della radio, no? Quindi strumento tecnologico all'avanguardia e quindi c'è sempre questa contraddizione tra passato e futuro. Arriviamo al punto, Joe Ponti, che è stato uno dei protagonisti della ricerca progettuale, delle arti figurative, del contesto culturale italiano tra le due guerre, in qualche maniera mi sembra che possa rappresentare il simbolo emblematico di questa sintesi tra passato, tra classicismo e modernità. In realtà lui appunto, quando fu art director della Ricciagginori dal 1923 al 1930, realizza tutta una serie di linee produttive impostate appunto su un sincretismo linguistico con richiami archeologici alla Romanità, addirittura all'Egitto, ad antiche civiltà, ma nello stesso tempo imposta questa produzione con una in chiave di produzione industriale. Il suo motto era infatti arte è il genere, industria è la condizione. E pochi anni dopo, quando scriverà il suo libro nel 1933, La Casa l'Italiana, dichiarerà inoltre che l'industria fa stile, l'industria è la maniera del tempo. Cioè quindi da un lato propone questa tipologia di immagini che richiamano la classicità, che sanno parte, qui in mostra a Dolce Vita c'è una sala dedicata alla classicità, in cui sono esposte magnificamente anche in dialogo con mobili, con dipinti, le ceramiche di Geoponti, e rappresentano proprio questa esigenza di classicità, questo richiamo all'ordine, che peraltro è un'esigenza che è così avvertita, e praticata, e sperita in tutta Europa. Il rappaella l'ordre è un linguaggio, una vulgata comune, dopo la carneficina della Prima Guerra Mondiale, anche come reazione, non solo ideologica, ma anche culturale. Geoponti poi lascerà nel 1930, la licea Ginori, questo servizio, il servizio Barbara, è una delle ultime produzioni da lui firmate, in diverse versioni, questa è una delle versioni appunto della collezione Walson, e in realtà manterrà un controllo sulla manifattura, anche se dal 1936 diventerà art director Giovanni Gariboldi, e anche Giovanni Gariboldi erediterà, diciamo, questo approccio espressivo di Geoponti, all'interno di una produzione industriale che si era andata affermando, che avrà diventato, insomma, della principale nel panorama produttivo italiano. E un percorso analogo conduce nello stesso periodo la società artistica di ceramica di Laveno, sotto la guida dell'art director Guida Andlowitz. Vedete, questi sono due suoi servizi, quello di sinistra è il servizio Monza, o Margherita, si chiama Monza perché fu esposto nel 1925 a Monza, o Margherita perché sembrano la corolla di una Margherita, i piatti, le decorazioni dei piatti. Ecco, il servizio a destra invece fu esposto alla triennale del 1936, quindi pochissimi anni dopo, e abbiamo già un'impostazione fortemente segnata dalla semplificazione formale e compositiva delle avanguardie, del Bauhaus, del movimento moderno. Movimento moderno che si afferma in Italia, diciamo come, almeno secondo a mio avviso, questo è uno dei momenti di apertura, di lancio di questo, diciamo, linguaggio, di questa tendenza stilistica, progettuale, e si tratta degli uffici salpa, del collezionista torinese, collezionista industriale torinese, Riccardo Gualino, che vengono realizzati da Pagano, da Giuseppe Pagano e da Gino Levi Montalcini. È un progetto di grandissimo rilievo che ha un richiamo fortissimo in Italia e suscita grandi interessi da parte della critica. Domus di Gio Ponti, ricordo che Gio Ponti fonda Domus nel 1928, nell'anno in cui viene fondata anche Casa Bella. Due riviste che sono molto divergenti. Da un lato Gio Ponti guarda appunto all'artigianato, alla qualità artigianale, alla produzione, alla potenzialità dell'artigianato a trasformarsi in industria e alle tradizioni italiane. Dall'altro invece Casa Bella guarda ovviamente al movimento moderno e promuove tutte le espressioni più artistiche, più all'avanguardia. Ecco, gli uffici salpa di Torino sono un primo esempio di un arredo completo e di un progetto globale in chiave modernista. L'aspetto interessante è che è proprio un'esaltazione come dire, di una ideologia manageriale che viene concretamente realizzata attraverso un progetto che Gigi Chessa sulle pagine dei Domus definisce la soluzione di un problema ben impostato. E questo problema, questa soluzione è risolta e raggiunta attraverso l'uso di un'omogeneità formale, compositiva, data dai materiali. I due architetti utilizzano il Buxus, che è uno dei materiali autarchitici che poi vedremo, un succedaneo del legno, che in qualche maniera dà omogeneità a tutti gli arredi, dall'ufficio del direttore generale all'ufficio della centralinista. Sono tutti nello stesso materiale. Le differenze funzionali e operative vengono rimarcate attraverso una gamma cromatica, un'estesa gamma cromatica. La poltrona di sinistra che vedete anche in mostra, tra l'altro in mostra la vedete in due versioni, anche in colorata di nero, è appunto quella degli uffici Salpa realizzata tra il 1928 e il 1929 dai due architetti, Giuseppe Pagano e Giuliano Leva di Montalcini. La sedia di destra è una seggiolina invece che fa parte della realizzata sul progetto di Pagano per l'Università Bocconi. Siamo alla fine degli anni 30, quindi un decennio dopo Pagano ha portato avanti questo suo discorso di sperimentazione sui materiali, ma soprattutto sulla semplificazione, sul rigoroso semplificazione delle linee compositive, ma in questo momento è attratto, come molti altri architetti e designer italiani, dalle potenzialità espressive dell'organicismo di Alvaro Alto. Alvaro Alto espone la triennale di Milano del 1936 e per molti architetti inizia a rappresentare una via alternativa a quello che è appunto il rigore nordico del movimento moderno. Considerate che in questo periodo in cui c'è un fortissimo dibattito sulle riviste, in particolare su Domus e Casabella, il movimento moderno, i mobili moderni, vengono chiamati spesso mobili tedeschi in senso spregiativo e altrettanto infuocato è il dibattito sul concetto di moderno, che è quello da cui siamo partiti, citando il romanzo di Levit e le considerazioni sulla forma espressiva della ideologia fascista. Continuiamo il nostro percorso, siamo nel 1930, la Biennale di Monza si trasforma in triennale, la Biennale di Monza che è stata la vetrina espositiva internazionale esorta nel 1923, si trasforma in triennale, ma soprattutto cambia la propria denominazione, non è più triennale delle arti decorative e triennale delle arti decorative industriali. Cioè il concetto è l'industria deve trovare un incremento nell'ambito della produzione di arredi, di manufatti e Gioponti, che è parte del direttorio di questa mostra insieme a Edi, in tubolare metallico di Miss Van der Rohe. A fianco di questa sale invece vedete ancora il classicismo, il monumentalismo proposto dall'allestimento interno di Muzio, che sarà poi il futuro progettista del Palazzo dell'Arte di Milano. Questo ovviamente doveva avere un aspetto magniloquente, retorico, altosonante, perché era la sala dei marmi che doveva accogliere i reali durante la cerimonia inaugurale dell'esposizione. Allo stesso tempo si celebrava l'utilizzo di un materiale tipico dell'Italia, quello dei marmi e la sedia, la poltrona che vedete in alto è appunto la poltrona che è una delle poltrone che doveva accogliere i reali. Quindi diciamo questo però, questo è il monumentalismo novecentista che ha un risvolto nel campo delle arti figurative, lo vediamo in questi due quadri, in questi due dipinti, uno di Funi, una maternità tema classico fin dalla maternità di Severini che rompe naturalmente contro la tradizione avanguardistica per abbracciare il rappel all'ordine, il richiamo all'ordine, è un dipinto di Ceracchini che mostra quella versione del realismo magico che è una delle tante articolazioni del linguaggio novecentista. Se la triennale di Monza del 1930 rispecchia ancora un certo ritardo da parte dell'Italia di fronte appunto alle potenzialità espressive del razionalismo del movimento moderno abbiamo però un padiglione quello della Edison la casa elettrica a cui collaborano Figini, Pollini, Libera e Bottoni che invece rispecchia fortemente in maniera organica e coerente quelle che sono le impostazioni stilistiche ed espressive del razionalismo. In particolare bisogna sottolineare e cogliere la novità l'innovazione linguistica della cucina che fu progettata da Piero Bottoni è la cucina di sinistra che metto a confronto con la celebre cucina di Francoforte di Grethe Schutt Liotsky presentata appunto alla mostra di Francoforte nel 1927 e qui il problema non è soltanto sottolineare appunto il rigore delle forme l'essenzialità dei materiali ma anche soprattutto il pensiero funzionale cioè Grethe Schutt Liotsky aveva pensato a diciamo l'operatività della massaia nella cucina come quella di un operaio in una fabbrica quindi impostando un progetto funzionale all'interno di uno spazio limitato come quello di una piccola cucina economica per un appartamento appunto popolare e gli stessi mobili che Bottoni aveva realizzato per la cucina della casa elettrica della triennale di El 30 utilizza poi a Milano per la casa Minerbi quindi una casa invece borghese a questo punto quindi vedete come c'è un strano diciamo contrasto il razionalismo che dovrebbe nascere come un linguaggio per tutti popolare economico si trasforma invece in un linguaggio in un gusto in un modello comportamentale sociale elittario e questa tesi cioè questo tema viene in qualche maniera confermato anche alla triennale del 1933 ecco che è la triennale che inaugura a Milano nel nuovo palazzo dell'arte di Muzio è la triennale peraltro decorata da una serie di pitture murali che purtroppo non sopravviveranno voi sapete per un po' parte per imperizia degli artisti non c'era più l'uso di dedicarsi alla fresca un po' perché i lavori furono fatti molto in fretta tutti gli affreschi sono scomparsi è rimasto soltanto il mosaico di Severini che vedete in fondo in questa immagine vintage circondato da una pittura murale invece di De Chirico all'interno della triennale del 1933 partecipano vengono creati tutta una serie di padiglioni nel parco era un'iniziativa che era già stata inaugurata dalla triennale di Monza del 1930 e oltre a questi padiglioni c'è uno studio per un artista di Figgini e Pollini il tema è quello della pianta aperta ripreso dal padiglione di Barcellona di Miss Van Der Roe del 1928 ma anche qui c'è sempre una variante che è una variante è un po' il modo italiano il titolo di un'altra mostra organizzata da Cogevale in collaborazione sempre con questo team in cui c'erano anche Irene Di Gutri e Maria Paola Maino il modo italiano in qualche maniera sia proprio del linguaggio razionalista del movimento moderno ma in una versione più mediterranea più libera non tanto nella sala in cui vi sto presentando ma diciamo nella composizione complessiva del progetto nella sala in cui vi presento vedete invece l'utilizzo di mobili in tubolare metallico che diventano dominanti cioè diventa il materiale che identifica la modernità degli arredi in questo periodo ma anche qui c'è un ma c'è comunque una variante italiana lo vedete in questa seggiola in questa poltrona di vietti in cui il materiale il freddo materiale tubolare metallico viene integrato accompagnato da un materiale organico secondo una tendenza comune alle opere di Luigi Vietti che le aveva assorbite dalla lezione di Alvaralto e qui siamo sempre nella triennale del 1933 uno dei tanti padiglioni esterni che vengono realizzati è la casa struttura d'acciaio del gruppo di architetti Liguri coordinato da Luigi Vietti e da Daneri da Carlo Daneri è interessante perché anche qui abbiamo sempre il tema della pianta aperta però abbiamo una conferma in genere del fatto in tutti i padiglioni che vengono realizzati del fatto che i linguaggi più innovativi i linguaggi espressivi progettuali più innovativi in qualche maniera fanno riferimento alle classi elitarie nel caso del padiglione dei Liguri questo palazzo di struttura d'acciaio più si sale di piano più cresce il pregio degli arredi l'arredo che vedete a destra nell'immagine di destra si riferisce al piano terra cioè al primo piano fu realizzato dall'architetto Zappa ed era stato commissionato dal comune di Genova per delle case popolari ma è interessante rilevare che si utilizzavano anche qui mobili in tubulare metallico e un materiale autarchico come il linoleum queste invece sono le immagini degli interni quella in alto a sinistra è l'immagine dell'appartamento progettato da Luigi Carlo Danieri le altre due immagini in bianco e nero si riferiscono all'appartamento di Luigi Vietti in cui fu collocata anche questa poltrona che ha evidenti assonanze con le poltrone di Alvaralto e che Vietti appunto espone nella triennale del 1933 Alvaralto ve lo ricordo ve lo dicevo prima espone nel 1936 e Vietti utilizzando questo tema del legno piegato del legno curvato l'amellare curvato che nel suo caso è anche più elastico rispetto diciamo alla curvatura della betulla sperimentata da Vietti fu utilizzato anche dallo stesso Vietti per gli arredi della nuova stazione marittima di Genova dello stesso periodo sempre la triennale del 1933 dobbiamo citare un'altra via ancora e questo testimonia ancora una volta di più quanto fosse complessa articolato e problematica diciamo il panorama artistico progettuale di quegli anni ed è il padiglione dei futuristi viene affidato il progetto complessivo a Prampolini che per la struttura dell'edificio si richiama all'architettura di Mendelssohn e all'interno invece collaborano tutti i principali artisti da De Pero a Fillia a Munari a Tayat a Prampolini stesso ovviamente con un progetto di matrice Bauhaus e d'altra parte in questo periodo i futuristi cercavano di diventare detentori dell'estetica statale dell'estetica del regime anzi promuovendo in qualche maniera quelli che erano i materiali nazionali qui avete un'immagine di Marinetti davanti al padiglione della Xilexine anzi della Xilexore che era Xilexine e Xilexore erano due rivestimenti per interni e per esterni di cui i futuristi utilizzavano moltissimo per i loro allestimenti e per le loro decorazioni di interni o di edifici per esterni e questa sperimentazione e soprattutto la proposta questa autoproposta da parte dei futuristi al regime come unici detentori dell'estetica e dell'ideologia del fascismo trova il suo apice in occasione dell'esposizione di Genova del 1934 la celebre mossa della plastica murale ordinata sempre da Prampolini che era una mossa in cui gli artisti futuristi proponevano delle decorazioni per edifici naturalmente questo è il periodo delle opere pubbliche quindi voi sapete che molti edifici venivano decorati soprattutto i palazzi delle poste i palazzi dei tribunali gli edifici di rappresentanza venivano decorati come si era partito dall'altra parte dalla triennale del 1933 e il tema il comune denominatore stilistico iconografico è quello dell'aeropittura qui vedete un quadro di Corrompae classico esempio dell'aeropittura e un fotomontaggio di Munari sempre sul tema dell'aviazione il momento il massimo apice espressivo di questa tendenza sono i mosaici per il palazzo delle poste di La Spezia uno dei capolavori della decorazione futurista siamo nel 1933 i mosaici vengono realizzati da filiere di rampolini che sono le due punte le due fuoriclasse del secondo futurismo il tema sono i mezzi di comunicazione i mezzi di trasporto all'avanguardia aerei treni navi radio telegrafi e la cosa così l'aspetto spettacolare al di là del fatto che sono in questa torre del palazzo delle poste di Mazzoni alla Spezia una torre di mattoni quindi un'immagine piuttosto classica come prototipo architettonico i mosaici sono realizzati in ceramica e con inserti in alluminio ma come se fossero degli stacchi di affreschi che però hanno così prospettano una percezione e una fruizione dinamica perché salendo scelenando le scale la percezione di queste opere cambia continuamente secondo quelli che erano i principi della poetica futurista poetica futurista che si applica attraverso appunto un'abilità strategia operativa di Marinetti in maniera anche un po' saprofitta cioè utilizzando un know-how di manifatture che operavano tradizionalmente per riconvertirle alla poetica futurista in particolare nel campo della ceramica dopo Faenza e soprattutto Albissola dove Mazzotti cioè Tullio Mazzotti detto Tullio D'Albissola con il nickname che dava Marinetti a tutti gli esponenti del futurismo realizza una crea una nuova manifattura questo è l'edificio che è ancora tuttora visitabile è progettato da Diulgarov e inizia a impostare una produzione completamente innovativa questo è uno straordinario vaso che è una sorta di programma artistico ed espressivo di Tullio Mazzotti o Tullio D'Albissola che peraltro aveva visto i futuristi nel 1925 a Parigi e quindi aveva come San Paolo era caduto fulminato e si era convertito alla modernità lo vedete è un vaso che ha due facce una faccia che riprende l'antico Savona che era la tecnica tradizionale che veniva ripetuta ossessivamente nel Savonese e invece dall'altra parte c'è la modernità di un nuovo linguaggio espressivo coerente con la poetica futurista che poi si ritrova nella brocca che è anche su in mostra di Tullio D'Albissola chiamata fobia antiimitativa i titoli delle opere di Tullio D'Albissola come degli altri futuristi nelle produzioni della ceramica sono sempre molto indicativi o questo vaso di Diulgaro con la tecnica matte e la colorazione ad aerografo quindi con tecniche molto alternative a quelli che erano i processi espressivi tradizionali che fino ad allora avevano stati dominanti ecco tra i futuristi troviamo anche Munari l'abbiamo citato prima per i suoi interventi al padiglione del 1933 alla triennale e suo è il dipinto in alto a sinistra Munari fa parte del gruppo degli artisti astrattisti l'altro dipinto che vedete in questa diapo è di Licini ma è importante vedere e analizzare questo è diciamo un po' un firouge che accorre anche nella mostra la dolce vita qui a Palazzo delle Esposizioni come le arti figurativi collegassero i vari movimenti nel caso specifico questi sono due quadri di Gringhelli e di Reggiani che sono due artisti che espongono alla prima mostra uscita pubblica dell'astrattismo italiano alla Galleria del Milione nel 1934 in occasione di questa mostra partecipano Gringhelli stesso che peraltro è il gallerista e Reggiani e Bogliardi scrivono un manifesto programmatico la dichiarazione degli espositori che diventerà il manifesto dell'astrattismo nel 1935 è opportuno ricordare che Carlo Belli pubblica KN definito da Candisti il vangelo dell'arte moderna e quindi questo tipo di pittura poi si riflette nella progettazione nell'impegno progettistico di un architetto come Terragni nella Casa del Fascio Casa del Fascio che peraltro è impostata secondo dei principi coerenti e omogenei a quelle che sono diciamo le regole del movimento moderno ma con una sintesi tra classicismo lo vedete anche nella partizione della facciata e quindi classicismo e modernità all'interno naturalmente c'è tutta questa idea del rispecchiamento tra interno e esterno perché in qualche maniera doveva essere coerente con la sioma di Mussolini che è il fascismo una casa di vetro quindi bisognava guardare dentro doveva essere scoperto il lavoro e all'interno abbiamo questo progetto viene integrato da alcuni arredi le sedi benite all'Ariana che poi vengono utilizzate da Terragni anche nell'asilo Sant'Elia e le decorazioni di radice con questo ritratto fotografico di Mussolini a capotavola che insomma è una sorta di nume tutelare e queste sono le sedie che vengono realizzate in tubolare metallico che come vi dicevo è il materiale dominante in questo periodo ma se questo tipo di materiali diventa dominante in realtà quello che diventa una vulgata comune generale è quella della semplificazione delle linee che viene praticata in qualche maniera con una versione italiana del movimento moderno più aggraziata più delicata e che ritroviamo per esempio nella sedia di Piacentini nella sedia rossa di Piacentini per la casa Sarfatti o nel sala da pranzo di Piero Bottoni per la casa Bedera di Da Livorno o nelle opere gli oggetti in metallo di Ugo Caccarà che è un artista triestino legato al futurismo e qui bisogna richiamare appunto quella che è lo spirito mediterraneo quello spirito latino che trova diciamo il suo apice espressivo nella casa Malaparte di Libera a Capri realizzato tra il 38 e il 43 è un'architettura che naturalmente ha una mescolanza simbolica di elementi luce acqua fuoco ha un aspetto scenografico fortemente marcato ma soprattutto ha un utilizzo rende esplicita una serie di metafore di tipo nautico che ritroviamo peraltro in un altro celebre progetto architettonico di questo periodo di Clemente Busirivici per la colonia marina 28 ottobre le navi a Cattolica del 1932 arriviamo a una biennale successiva siamo nel 1936 è la sesta triennale il personaggio che mi introduco è un personaggio chiave per il passaggio tra le ricerche degli anni tra le due guerre e gli anni del dopoguerra mi riferisco a Franco Albini di cui vedete questo interno è un alloggio per quattro persone realizzato per la mostra dell'abitazione la mostra della triennale del 1936 è una mostra molto importante per quello che è la sua essenza di vetrine espositive delle tendenze internazionali si fronteggiano infatti nella triennale del 1936 Max Bill nel padiglione svizzero e Alvar Alto nel padiglione finlandese quindi sono le due tendenze fondamentali del movimento moderno in quest'epoca da un lato il rigore quello che viene definito nordico tedesco e dall'altro invece questa alterità dell'organicismo proposto dall'architetto finlandese Albini come molti architetti italiani in questo periodo sono fortemente impegnati dal problema di imporre in Italia la produzione seriale e soprattutto di presentare degli arredi che abbiano in sé le componenti di intercambiabilità e di trasformabilità naturalmente seguendo diciamo quello che erano gli esempi della lezione di Le Corbusier ma l'altro aspetto importante naturalmente è ormai il trionfo definitivo dei mobili in tubolare metallico e in questo periodo infatti nascono tutta una serie di ditte che le producono per esempio la Columbus di Milano o la Pino di Parabiago con cui collabora Gabriele Mucchi che è un artista sarà poi nel dopoguerra un artista figurativo neorealista che in questo periodo alla fine degli anni 30 riesce a creare una sinergia come designer e industriale con la Pino di Parabiago producendo tutta una serie di arredi ne vedete qua la pubblicità di questa ditta di questa industria e un altro modello la seggiolina quella impilabile che abbiamo visto a precedenza mentre la sedia in alluminio con lo schienale e la seduta rossa e di geoponti era per gli uffici della Montecatini il materiale diciamo il tubolare metallico quindi ha ormai svalicato dall'uso iniziale era soltanto per ospedali scuole o per diciamo per la cucina per i bagni diventa un elemento d'arredo comune e generalmente utilizzato per tutti gli ambiti dell'interior design altrettanto importante in questo periodo è la sperimentazione nel campo dell'industrial design riguardo ai mezzi di comunicazione questa è la cenebre Littorina è un treno che ebbe il suo viaggio inaugurale nella tratta Roma-Littoria da quello il nome che è una struttura è un vagone autoportante con linee affosolate con questa finastrattura a nastro continua che ovviamente viene così ripresa dall'architettura di Mendelssohn e sempre nell'ambito dell'industrial design la parte della lampada bilia che vedete anche sui mostra di Gio Ponti che tra l'altro rappresenta un altro suo impegno come art director in questo caso con la Fontana Arte che condivise con Pietro Chiesa assolutamente importante è la radio proposta da Castiglioni nella triennale del 1940 laddove le radio salvo quella che è bellissima che è esposta qui in mostra di Albini che è una radio controtendenza il tema della radio all'epoca era facciamo il mobile barocco che nasconde diciamo la strumentazione tecnologica Albini toglie il mobile barocco e lascia la strumentazione nel caso della radio di Castiglioni invece c'è una in qualche maniera esaltazione viene messa proprio in rilievo la strumentazione tecnologica che assume appunto il significato estetico anche attraverso un uso di cromatismi era in versione questo verde militare ma anche rosso e soprattutto era in plastica in bachelite e bachelite siamo arrivati al tema sto quasi per concludere il tema dei materiali autarchici che naturalmente si diffonde dopo il 1935 quando la società delle nazioni commina le sanzioni contro l'Italia dopo l'invasione dell'autarchia ma questo tema il tema dell'autarchia nasce già non solo in Italia ma in tutta Europa nel 1929 nasce sia nei regimi democratici che nei regimi dittatoriali come il regime fascista per incidere sull'immaginario collettivo attraverso modelli di rappresentazione della modernità ci siamo di nuovo su questo tema della modernità da cui abbiamo partiti si propongono materiali alternativi succedanei cercando di dare l'impressione che non solo in questa maniera si risparmia ma si vive si attua un'azione comportamentale moderna cioè si cambia la società la società sta cambiando e quindi cambia anche i suoi usi e i suoi consumi queste immagini si riferiscono a tutti tessuti autarchici prodotti in quel periodo questi altri materiali dall'anticoro dall'amazonite il linoleum e tenete conto che tutte queste pubblicità sono realizzate da grandi graphic designer come verenonesi grignani tutti artisti che poi avranno un ruolo fondamentale nel rilancio dell'astrazione negli anni dopo la guerra arriviamo al buxus il buxus da cui eravamo partiti parlando di Pagano e Levi Montalcini il progetto per la salpa che è questo succedaneo del legno in cellulosa per il rivestimento di mobili spesso che non ha un successo che il produttore si augurava tant'è vero che a un certo punto si affiderà a De Pero il quale poveretto nei suoi due viaggi negli Stati Uniti porterà sempre il buxus cercando di proporlo sul mercato americano ma De Pero non troverà la sua America ma ne riconvertirà la produzione lo vedete questi sono due esempi di materiali cioè di manufatti realizzati col buxus quelli di De Pero naturalmente assumeranno una maggiore incidenza sul tema del colore cioè della gamma cromatica e delle decorazioni un altro materiale fortemente usato in questo periodo è il cristallo di sicurezza il vis o securit o super tenax che erano le diverse marche che vengono utilizzate e poi l'alluminio la zuppiera che vedete in alto è di Gio Ponti prodotta per la Crup ed esposta alla triennale di Milano la Crup aveva una sua sede autonoma in Italia mentre la lampada il lampadario fu presentato all'esposizione triennale del 1933 era un lampadario per scuole un luminator di cui qui avete invece in mostra un esempio molto più suggestivo busiri vici sempre alluminio l'alluminio naturalmente domina anche nelle sperimentazioni dei futuristi dal libro di Latta peraltro anche questo qui in mostra fino a diciamo alla taverna del Santo Palato il ristorante in cui si sperimentavano quelle orribili ricette futuriste che era interamente fasciato di alluminio e addirittura di alluminio era anche la copertina del menu e come diamo l'uminio era la cravatta proposta da Di Bosso durante un suo manifesto della fine degli anni 30 il tema dell'autarchia è il tema quindi dominante nella seconda metà degli anni 30 e quindi influenza in qualche maniera impronta tutte le ricerche anche in ambito razionalista del movimento moderno questo strano tavolo che fa parte della nostra collezione della Wolsoniana è un tavolo che si chiama l'autarca è un tavolo geniale nella concezione che peraltro fu inventato da un signore che si dedicava per altre cose era un notaio genovese che però aveva il pallino delle invenzioni e crea questo tavolo per poter consumare un pranzo in cui i commensali non necessitavano dell'ausilio di domestici si dice che fosse stato fatto per evitare che i domestici sentissero dei discorsi compromettenti in un periodo in cui politicamente poteva essere pericoloso appunto fare certo tipo di commenti ma quello che a noi interessa è che quella parte centrale si abbassa e si alza e contiene tutte diciamo le stoviglie necessarie per consumare un pranzo e nella parte alta nella fascione in alto che naturalmente gira e ruotante sono conservati le varie pietanze divise tra primo e secondo dessert e che possono essere anche riscaldate grazie alle resistenze e poi con una maniglia si tira giù la parte centrale e i commensali possono tornare a guardarsi in faccia e a discutere e a consumare il pranzo in qualche maniera noi nella nostro museo l'abbiamo fatto diventare un po' un simbolo di questo tema dell'autarchia ma anche il simbolo di questa versatilità espressiva e progettuale di questi anni una versatilità espressiva e progettuale che sto veramente terminando trova il suo paladino di nuovo in Franco Albini e soprattutto in questo in questo arredo che è un arredo che propone alla triennale del 1940 è una biennale che precede di pochissimo le entrate in guerra in Italia quindi cioè c'è il senso del fine di un'epoca qualcosa sta ormai tramontando alcune certezze alcune aspirazioni o stanno tramontando alcune tragedie che poi diventeranno ancora più tragiche ma in qualche maniera per ricovertirsi poi in quello che sarà la rinascita del dopoguerra Albini propone un arredo che è di nuovo impostato coerentemente sui principi progettuali del movimento moderno ma dando una sua variante totalmente personale autonoma innanzitutto nel dialogo tra interno ed esterno e poi soprattutto su questo tema della leggerezza che ovviamente viene esemplificato da questa seggiolina sospesa tipo seggiovia in qualche maniera questa questo arredo l'arredo della 1940 la stanza di soggiorno di una villa di Albini rappresenta un ampliamento dei caratteri espressivi della grammatica razionalista ma anche la sperimentazione su materiali tradizionali e questo collega l'esperienza di Albini a quella di Alto ma allo stesso tempo la sperimentazione anche tecnologica ingegneristica proprio sui materiali che poi naturalmente trionfa in un suo progetto coevo che è quello della sua libreria alvelliero in cui le sollicitazioni le tensioni strutturali dei materiali diventano il tema progettuale il focus del tema progettuale sempre con questo gioco della leggerezza della sospensione che peraltro era presente anche nella scala sospesa dell'appartamento della Trinale del 1940 che poi diventa anche un po' il leitmotiv progettuale di Albini sono molto vernacolare ritorno su Genova ma dove c'è il Palazzo Rosso la scala sospesa del Museo di Palazzo Rosso l'allestimento museale di Albini è uno sicuramente dei capolavori di questo architetto e delle potenzialità di questa variante di questa alternativa progettuale al movimento moderno che trova la sua chiave più ingegneristica più funzionale appunto nella libreria alvelliero e l'altro protagonista l'altro deutoragonista di questa volontà di uscita di sfida anzi ai rigorosi principi del razionalismo è Mollino l'ho scelto perché non a caso è l'ultimo oggetto in mostra qua al Palazzo delle Esposizioni ma perché è diciamo l'uscita come Albini a fine del senso di un'epoca l'inizio di qualcosa di diverso l'inizio di una evoluzione linguistica ma anche comportamentale altrettanto incisiva è l'azione di Mollino che si contrappone diciamo al tema della serialità quello che tutti gli architetti italiani designer avevano inseguito ossessivamente negli anni 30 sotto legida del movimento moderno come Mollino dice no stop cioè invece bisogna esaltare le qualità artigianali che era peraltro il tema invece dominante della propaganda della pubblicistica di Ponti Pontiana attraverso le pagine di Domus e però Mollino non rinuncia alla modernità usa i fotomontaggi questi sono i due interni della casa De Valle e della casa Miller usa fotomontaggi usa strumenti tecnologici moderni per integrare questi che sono i suoi arredi quindi non c'è più la nostalgia dell'antico non c'è più diciamo lo storicismo non c'è più quei richiami che avevano invece impregnato e imbevuto la cultura novecentista c'è un'uscita una diciamo alternativa che poi in fondo un'alternativa alla standardizzazione un'alternativa al rigore linguistico del razionalismo ma un'alternativa che poi in fondo è il senso e il modo della cultura progettuale artistica italiana di questi anni e anche della sua variante del razionalismo grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti